Dopo essermi liberato di voi tre marmocchi, avrò il pieno controllo di incudini e finalmente realizzerò il mio sogno. Le incudini saranno mie! Le incudini? Sì, sarò il padrone di tutte le incudini. Mi scusasse, è tutta questa manfrina per le incudini? Perché non l'ha detto prima? Ecco, tanga, le do la mia incudine volentieri. Io non voglio questa incudinuccia. Beh, allora si prenda questa. No! Non guardi me, io la mia me la tengo. No, no! Io voglio incudini grandi e ne voglio appalate! Non c'è problema, aspetti qui. Anzi meglio, aspetti qui. Questo genere di incudini? Sì! Ok! Dal produttore al consumatore, niente intermediari. Io sono il re! Fuoco! Brutti piccoli! Ma dove sono finiti? No! Blah! Povera tenera canaglia, se l'ha cercata lui? Tenga, ci ho ripensato, povera anche la mia dicudine. Bene, e con questa la consegna è completa, una firmetta qui. Avete vinto voi! Sono ai vostri piedi, mi arrendo. Fate di me quello che volete. Signor Trattore, ho trovato per lei una punizione imparziale, giusta intelligente o giusto parzialmente intelligente. Qualunque cosa.